Dunque, questo video è un video che è importante per quei pazienti che hanno problematiche nella mobilità, quindi nel muoversi a letto, nel passare dalla posizione sdraiata a quella seduta, mettersi in piedi o problemi nel cammino. Problemi conseguenti a problematiche neurologiche, come ad esempio a seguito di un ictus ischemico emorragico. L'obiettivo di questo video è elencare in ordine crescente difficoltà quali sono i passaggi posturali passando dalle posizioni, movimenti base a letto, fino alle posizioni un po' più complicate, quindi ad esempio da in piedi o problematiche che possono insorgere durante lo schema del passo. E l'obiettivo qual è? È quello che il paziente possa identificare qual è la sua situazione funzionale attuale, a quale livello si trovi e soprattutto quali sono gli step successivi su cui vale la pena focalizzarsi per un recupero funzionale ottimale. Per cominciare appunto ci mettiamo sdraiati, questa è la posizione funzionale più semplice di base, ecco da questa posizione una delle cose più importanti è riuscire a recuperare la capacità di piegare le gambe e riuscire ad avvicinare il più possibile i piedi al sedere. Perché questa posizione è molto importante? Perché da questo punto funzionale è possibile sollevare il sedere. Sollevare il sedere in questo modo ma anche semplicemente sollevare il sedere di pochi centimetri, semplicemente sollevarlo dal piano del lettino. Questo perché è così importante? Perché a partire da questo movimento è possibile spostarsi lateralmente con il sedere. A destra e a sinistra. Ecco noi dobbiamo immaginare che nel momento in cui siamo sdraiati abbiamo tre punti di appoggio. Il primo punto d'appoggio sono i piedi, il secondo punto d'appoggio è il sedere e il terzo punto d'appoggio è la testa e le spalle. Quindi per poter muoversi nel letto, quindi i passaggi diciamo da destra a sinistra, è importante che sempre ci siano due punti di appoggio in modo che il terzo punto d'appoggio si possa muovere liberamente. Quindi in questo caso se noi siamo sdraiati in questo modo siamo riusciti a portare i piedi vicino al sedere. Ricordiamo che più li porti vicini al sedere più facile sarà questo movimento, quindi non questo ma piuttosto questa posizione. Ecco se i piedi sono appoggiati al letto, posso sollevare il sedere e portarlo da un lato. Ok, lo step successivo è spostare per esempio la testa alle spalle, quindi il sedere si trova in questo caso verso sinistra, sollevo la testa alle spalle e cerco di fare questo movimento laterale verso sinistra. Se ho un braccio plegico, per esempio dal lato destro, è utile tenerlo con l'altro braccio oppure tenerlo in questo modo abbracciato in modo da non lasciarlo indietro lungo questo movimento. Ok, una volta che io ho spostato in questo caso il sedere e la testa alle spalle verso sinistra, posso spostare i piedi e in questo modo mi sono spostato con tutto il corpo da un lato del lettino. Stessa cosa se voglio andare verso destra, partirò da mettere i piedi vicino al sedere, sollevare il sedere, portarlo al centro del lettino, poi spostarmi con la testa alle spalle al centro, spostarmi con i piedi al centro e così via. Questo perché è importante? Ecco, in caso di problemi di mobilità a letto il rischio più frequente è quello di sviluppare delle piaghe da decubito che sono conseguenti alla prolungata immobilità in una certa posizione, può essere una posizione sdraiata pancia in su, può essere una posizione di lato, insomma si possono creare dei punti di pressione che se una posizione viene mantenuta per un tempo prolungato possono poi appunto dare dei problemi come la formazione di piaghe da decubito. Quindi questi movimenti che abbiamo visto dovrebbero essere praticati in autonomia dal paziente o con l'aiuto di un terapista o di un familiare, di un amico, insomma di chi si prende cura di questo paziente. L'importante è cercare di promuovere il più possibile, diciamo, una partecipazione attiva da parte del paziente, che il paziente non venga semplicemente spostato come un peso lungo il letto ma che venga educato progressivamente ad avere più e più autonomia in questi passaggi. Ora, in questo video andremo semplicemente a elencare i vari step e poi in video successivi, in collaborazione anche con un collega o con una collega nel ruolo del paziente, vedremo quali sono le tecniche anche di mobilizzazione perché anche il terapista o il parente che aiuta il paziente non deve caricare il peso del paziente su di sé, ma ci sono appunto delle tecniche che possono facilitare queste mobilizzazioni a letto. Ora, come si fa a passare dalla posizione seduta che si collega subito al discorso dei movimenti laterali? Perché? Perché se io mi trovo in una posizione sdraiata al centro del lettino, ok, questa è sempre la nostra posizione di partenza, sono arrivato a questa posizione, mi giro per scendere, ecco, se io parto dal centro del lettino in questo momento sono troppo vicino al bordo del lettino, è pericoloso per un paziente, c'è il rischio di cadere. Quindi una cosa importante quando si parte da questa posizione e ci si vuole girare per mettersi seduti dal lato destro è prima di tutto muovere il corpo di qualche centimetro verso sinistra, quindi dalla parte opposta. Una volta che ho creato abbastanza spazio da questo lato sì che posso girarmi e avrò sufficientemente spazio per fare poi il passaggio posturale e mettermi seduto. Ok. Anche per il passaggio posturale dalla posizione seduta, dalla posizione sdraiata a quella seduta, ci sono alcuni accorgimenti da considerare se mi sto girando dal lato plegico, dal lato diciamo che è stato colpito dall'ictus oppure dal lato sano. Facciamo il primo esempio, se io mi sto girando dal lato sano, dunque torniamo a questa posizione, questo alla mia destra è il lato sano e quello alla mia sinistra è il lato plegico. Ora cosa bisogna fare in questi casi? Non bisogna dimenticarsi il lato plegico, cioè quello che può succedere è che il paziente si gira da questo lato e si dimentica il lato plegico dietro e questo insomma rende impossibile completare il gesto. Quindi cosa succede? Che il paziente deve cercare di, o il terapista insomma, assistere questo movimento per cui ci si porta dietro il braccio ma anche la gamba del lato plegico, ok? In questo modo il piede può aiutare l'altro piede a uscire dal lettino, va bene? Il braccio aiuta il braccio, il piede aiuta il piede, in questa posizione o il lato plegico aiuta con la spinta o semplicemente rimane passivamente in questa posizione e con il lato sano ci si spinge e si cerca di raggiungere la posizione seduta. Secondo caso può essere che invece ci vogliamo girare dal lato plegico, quindi cosa si farà in questo caso? In questo caso sempre il mio lato destro, questa volta è il lato plegico, quindi una cosa importante è portare particolarmente in protrazione, in estensione il braccio perché se rimane troppo chiuso lo posso schiacciare, lo posso pinzare e bisogna portare il piede fuori dal lettino. Questo movimento si può anche fare prima ancora di incominciare tutta la manovra di rotazione e passaggio alla posizione seduta, cioè io posso da questa posizione già portare la gamba fuori, questo già mi porta, mi facilita tutta la mobilizzazione che farò poi per raggiungere la posizione seduta. Quindi la gamba plegica può essere la prima cosa che in modo attivo, attivo assistito viene portata fuori dal lettino. Una volta che il piede è fuori sono a posto. Quindi a questa posizione il braccio è protratto bene, mi giro dal lato affetto, metto il braccio in questa posizione di protezione in chiusura o anche in questa posizione, questa è la mia mano sana, questo è il mio piede sano, quindi posso portare il piede fuori, la mano andrà a spingere, ovviamente sarà più difficile nel caso in cui il braccio non possa dare nessun aiuto, farsi forza con il lato sano, però questa è la tecnica. Dunque ora che sono seduto a bordo letto la cosa che voglio raggiungere come obiettivo è quello di avere i piedi ben appoggiati per terra. Quindi per poter raggiungere questo obiettivo è necessario fare questo tipo di movimento. Cos'è questo tipo di movimento? In inglese scooting, si chiama così per dire che dobbiamo cercare di fare uno scivolamento di un milato del bacino alla volta in avanti o indietro sul piano del lettino. Ci possiamo aiutare sulle braccia, cercarlo di fare in isolamento. L'importante è che per spostarsi in avanti dobbiamo tenere l'appoggio su un lato del bacino, sollevare anche di pochi millimetri l'altro lato in modo che possa fare questo movimento di scivolamento in avanti. Una volta che siamo arrivati in avanti appoggiamo il bacino, passiamo con il peso da questo milato e facciamo lo stesso scivolamento in avanti questa volta con il lato destro. Stiamo in appoggio, passiamo il peso e in avanti così. È un po' come camminare però sulle ossa del bacino anziché sui piedi. Quando siamo riusciti ad andare sufficientemente in avanti dovremo avere i piedi appoggiati sul terreno. Ecco l'importanza dei piedi appoggiati per terra è che devono essere sotto le ginocchia. Se i piedi sono in avanti sarà impossibile fare qualsiasi passaggio posturale successivo, quindi è importante anche richiamare in modo attivo, attivo assistito, i piedi all'indietro in modo che siano sotto le ginocchia in questa posizione. Benissimo, quindi abbiamo per adesso visto come andare in avanti indietro sul lettino e come portare i piedi ben appoggiati sotto le ginocchia. Il passaggio successivo sono i movimenti laterali. Per poter fare questi movimenti laterali è necessario portare il peso in avanti, non è ancora necessario alzarsi, semplicemente portare il peso in avanti e sentire che la pressione sui piedi aumenta, quindi abbiamo in questo momento 50% del peso sui piedi e 50% sul bacino e aiutandosi con le mani sollevare il sedere e uscire a portarlo di lato. Quindi sta la posizione di partenza, piedi sotto le ginocchia, appoggio le mani sul lettino, faccio come un inchino in avanti, quindi il peso si sposta in avanti, il mio baricentro in avanti, riesco ad avere abbastanza libertà da poter sollevare il sedere e spostarlo da un lato. Se per esempio mi sono spostato al lato destro, poi stessa cosa per le braccia e stessa cosa per le gambe in modo attivo, attivo assistito e poi ripetiamo questo gesto. Ok, questo è ad esempio uno dei training più importanti nel passaggio dalla posizione a letto, alla posizione seduta e poi dalla posizione seduta avere questa libertà appunto di potersi muovere pur rimanendo seduti sul lettino ed è proprio ideotico per il passaggio successivo che sarà quello del passaggio dalla posizione seduta sul lettino a posizione seduta su una sedia o su una seda a rotelle. Dunque, quindi questo, ripetiamo, andare in avanti con un emilato del bacino anche con l'aiuto delle mani che danno un po' di appoggio e poi una volta raggiunta questa posizione in cui i piedi sono ben appoggiati al terreno, i movimenti laterali. Ok, passiamo alla fase successiva, quella di passare dalla posizione seduta alla posizione seduta su una sedia. In questo caso ci troviamo già nella situazione ottimale per cui l'altezza del lettino è superiore all'altezza della sedia, quindi il punto di partenza è più alto del punto di arrivo, molto bene. La cosa più importante, come ho fatto in questo momento, è di avvicinare il più possibile la sedia al lettino e al paziente, quindi stiamo cercando di semplificarci la vita. Per semplificare ulteriormente la vita, la sedia è posta dal lato sano, quindi se abbiamo avuto un'epilegia che ci ha colpito al lato sinistro, mettiamo la sedia sul lato destro e lavoriamo sfruttando il fatto che la parte destra del nostro corpo funziona. Ok, a partire da questa posizione quindi mi avvicino il più possibile, inizio ad appoggiare il mio peso sulla sedia o sul bracciolo della sedia, se siamo con una carrozzina e questa posizione serve sia per, diciamo, iniziare a collegare il punto di partenza che è il lettino al punto di arrivo che è la sedia, ma anche per portare il busto in avanti e portando il busto in avanti il baricentro va in avanti, ha maggior peso sui piedi e minor peso sul sedere che quindi è più libero di muoversi. Quindi a partire da questo movimento iniziamo a fare piccoli passaggi, cioè non pretendiamo di fare questo movimento in un'unica volta, ma possiamo gradualmente avvicinarci, avvicinare anche il braccio, avvicinare il piede plegico, quindi in modo attivo, attivo assistito a seconda e una volta che siamo sufficientemente vicini poi sarà più facile fare l'ultimo passaggio sulla sedia. A questo punto sistemiamo i piedi e ci prepariamo per i successivi passaggi posturali. Ora ci troviamo seduti, quindi il passaggio posturale successivo è quello che vogliamo raggiungere la stazione retta. Dunque, come dicevo prima in altri video, è importante garantire che il paziente si trovi in una situazione di sicurezza, anche di sicurezza percepita dal paziente, perché se il paziente si sente in qualche modo in pericolo, questo andrà a inficiare sulla performance. Magari oggettivamente potrebbe compiere un determinato gesto, ma non lo fa perché nel suo intorno sente comunque quel pericolo di cadere e di farsi male. Quindi, invece di fare un training nel passaggio dalla stazione seduta alla posizione retta senza niente intorno, è utile mettere un punto di riferimento, un punto di protezione sia davanti che di lato al paziente. E questo può essere, per esempio, qui cosa abbiamo? Una sorta di parallele. Non è proprio lo strumento che si utilizzerà in una palestra abitativa, ma rende l'idea. Cioè, un supporto o qualcosa che sappiamo che esiste per dare sicurezza al paziente, oppure qualcosa davanti su cui poi il paziente può iniziare a puntare e su cui può iniziare a tendere con il proprio peso. Questo può essere, ad esempio, un pallone, ok? Di questo tipo. Quindi, già semplicemente che noi facciamo appoggiare le mani del paziente su un pallone e gli diciamo di portare avanti il peso, ecco questo è già un esercizio, perché il paziente cosa fa? Di solito tende a stare in questa posizione con il peso tutto spostato all'indietro e i piedi in avanti. Perché? Perché questa è una posizione di sicurezza. Il paziente ha avuto un ictus e quindi istintivamente va in questa posizione di protezione. Noi dobbiamo cercare di portarlo il più in avanti possibile, fargli prendere confidenza con questa nuova posizione. Come detto prima, è impossibile fare alcun passaggio posturale se i piedi non sono posizionati bene, in questo caso sotto le ginocchia, perché appunto quando andremo a spostare il nostro peso, il peso dovrà cadere in mezzo ai piedi e quindi dobbiamo averli sufficientemente portati all'indietro prima. Quindi il primissimo passaggio, se siamo in questa posizione, portare i piedi indietro, portare il busto in avanti, aiutare il paziente a prendere confidenza con questo tipo di movimento e poi progressivamente, ecco, ci troviamo in questa situazione in cui il paziente ha i piedi all'indietro, ha imparato a portare il peso in avanti e progressivamente possiamo chiedergli di sollevare il sedere, fare forza sulle gambe e staccare il sedere dalla sedia. Anche qui, se abbiamo un lettino o una sedia sufficientemente alto, questo favorirà questo tipo di training. Quindi meglio cominciare con una posizione seduta che parte da una certa altezza e poi andare mano a mano a lavorare su posizioni, insomma, con un angolo maggiore di flessione delle ginocchia, delle anche. Arrivati a questa posizione, ecco, è importante poi allenare il passaggio alla posizione retta, che è questo. Ok. Analizziamo un po' questo movimento un paio di volte. Cosa è successo? Mi sono trovato in questa posizione, sono arrivato a questo punto di passaggio, a questo punto invece mi devo raddrizzare e raggiungere la posizione retta. Una cosa importante su cui voglio porre l'attenzione è che questo passaggio deve avere anche una certa velocità. Cioè, se è giusto dare il tempo al paziente all'inizio di allenarsi con la dovuta calma, con le dovute tempistiche, ma quello che viene fatto nella vita reale, l'efficacia vera di questo passaggio dalla posizione seduta a quella in piedi, conta anche sulla velocità. Cioè, se noi facciamo troppo lentamente questo gesto, è un'attività che anche per una persona sana, una persona che non ha avuto un evento cerebrovascolare acuto come un ictus, risulta più difficile rispetto a quello che facciamo con una certa velocità. Quindi, una volta che il paziente ha imparato la tecnica, cercare anche di imporre una certa velocità e rapidità nell'esecuzione, che andrà a migliorare comunque la performance. Evitare, se possibile, di mettere degli oggetti che il paziente possa afferrare per tirarsi su, per fare questo lavoro di appiglio per portarsi in avanti. Molto meglio mettere il paziente con le mani all'indietro perché possa invece appoggiarsi e spingere per raggiungere la posizione retta. Quindi, se noi mettiamo dei punti di aiuto e di appoggio in avanti, il paziente tenderà ad afferrare e a tirarsi su in questo modo. Però questo cosa fa? Rende tutto il movimento un po' più passivo per quello che riguarda la spinta di gambe e l'attività a livello della pelvi e del bacino. Quindi, è controproducente. Il paziente impara ad afferrarsi a una sbarra e a tirarsi con le braccia. Non è quello che vogliamo. Noi vogliamo che il paziente acquisita l'autonomia di tirarsi su facendo forza sulle gambe, sul bacino e quindi, a tal senso, aiuta di più mettere le mani più indietro. Può essere anche le maniglie di una carrozzina e spingere per aiutarsi con le braccia a raggiungere la posizione retta. Bene, quindi, in questo momento ci troviamo nella posizione retta. Gli ultimi passaggi posturali saranno, diciamo, lo schema del passo. Molto bene, siamo riusciti a passare dalla posizione seduta a quella in piedi. Ora ci troviamo in posizione retta. Dobbiamo fare il training perché il paziente da posizione retta sia in grado di muovere i suoi primi passi. Dunque, in questo momento ho organizzato l'intorno del paziente in modo che si senta il più assicuro possibile. Quindi, l'ideale è portare la sedia vicino a, per esempio, a delle parallele, in modo che il paziente abbia dei riferimenti di sicurezza sia dal lato destro che dal lato sinistro del suo corpo. Immaginiamo in questo caso che il paziente ha un'emiplegia che ha colpito il lato sinistro del corpo, per cui il lato sano è quello destro e il lato affetto è quello sinistro. Dunque, sì, ci troviamo in questa situazione, quindi dietro al paziente c'è la sedia, a lato le parallele e davanti il terapista, per esempio. Il primo passaggio è quasi un lavoro di sensazione, cioè il paziente deve abituarsi a percepire il peso del suo corpo su tutti e due i piedi. Tendenzialmente starà più dal lato sano, quindi con il 100% del peso sul lato destro e la gamba sinistra scarica, perché non si fida ad appoggiare il peso sul lato sinistro. Noi dobbiamo, con l'aiuto delle mani, insomma, della stabilizzazione del ginocchio, evitare che la gamba ceda e convincere il paziente a portare progressivamente il peso sia sul lato destro che sul lato sinistro, in modo da sentire, diciamo, un 50-50 del peso distribuito su tutti i due lati. A partire da questo lavoro di sensazione, che può essere giusto un passaggio da questa posizione a questa, con l'aiuto di un terapista che stabilizza il ginocchio per evitare questo cedimento, andiamo poi a una posizione un po' più estrema, che è quella di appoggiare il peso sul lato sinistro del corpo, perché ricordiamoci che per poter camminare abbiamo un'alternanza del passaggio del peso dal piede destro al piede sinistro, eccetera. Quindi il primo passaggio, senza sollevare il tallone, senza fare nessun passo, è semplicemente prendere consapevolezza della possibilità di mettere il peso su tutti e due i piedi, ugualmente, caricare il peso sul lato destro del corpo, caricare il peso sul lato sinistro del corpo. Un'altra cosa importante è abituarlo a fare questi piccoli movimenti, perché quando noi camminiamo il nostro passaggio di peso avviene per movimenti di piccoli centimetri lateralmente, non è che noi facciamo dei grandi movimenti a destra, dei grandi movimenti a sinistra, bastano pochi centimetri di movimento da un lato e dall'altro che abbiamo già fatto il nostro passaggio di peso da un lato all'altro. Perfetto. Ora, cominciando dal lato, per esempio, dal lato sano, dal lato destro, possiamo chiedere al paziente di avere anche un piccolo appoggio per avere maggiore sicurezza, chiediamo al paziente di mettere il peso sul lato sano e sollevare il tallone del lato affetto. Non tutto il piede, solo il tallone. Poi riappoggiarlo, tornare nella posizione iniziale, quindi centrati con il peso distribuito 50-50 e poi portare il peso sul lato non affetto e questa volta sollevare il tallone del lato sano, del lato destro. E quindi ripetere questo tipo di training. Se vediamo che il paziente è capace di fare questa azione, chiediamo poi di sollevare non solo il tallone ma tutto il piede, appoggiarlo per terra, tornare nella posizione iniziale, andare sull'altro lato e sollevare tutto il piede e poi tornare nella posizione iniziale. Durante questo training è importante che in tutti questi passaggi ci sia, diciamo, sempre la stessa disposizione della testa rispetto al bacino, quindi non è che noi andiamo da un lato e dall'altro con la testa. Tutto il tronco e il capo si spostano all'unisono da un lato all'altro, ok? Una volta che noi abbiamo allenato la possibilità di sollevare un piede e l'altro dal lato destro al lato sinistro, ok, è il momento di fare il primo passo. Per esempio, appoggiamo il peso sul lato sano, ok, e quindi chiediamo al paziente di sollevare il lato affetto e di portarlo in avanti. Non ci preoccupiamo che il primo passo sia perfetto, ci saranno tutta una serie di errori, i primi passi non saranno fatti secondo la sequenza perfetta dello schema del passo. L'importante è fare tante ripetizioni e progressivamente insegnare al paziente da imparare dagli errori, correggere lo schema del passo e ritornare poi ad un passo il più possibile simile alla deambulazione normale, insomma, lo schema del passo normale. Quindi se il primo passo è semplicemente il piede portato in avanti e lasciato cadere come un sacco di patate, non c'è nessun problema. Quindi l'importante è che il paziente sia in condizioni di sicurezza, che abbiamo fatto tutti i training precedenti di sensazione di passaggio del peso del corpo da un lato all'altro e poi abbiamo appunto questo sollevamento del piede e portarlo in avanti. Qual è il passo successivo? Ovviamente allenare l'altro lato, quindi importantissimo poter caricare il peso sul lato affetto, sollevare il piede sano, ma non solo portarlo in avanti. Quando facciamo questo esercizio stiamo portando anche in avanti il piede, ma anche poi il corpo, quindi stiamo facendo già questo lavoro in diagonale. Quindi non solo il peso dietro sul lato affetto, ma anche davanti sul lato sano e viceversa. Quindi quando portiamo il piede in avanti dal lato affetto, partiamo dal lato sano indietro e poi andiamo sul lato affetto in avanti. Tutto questo cercando di dare massima stabilità possibile, massimo intorno sicuro possibile per il paziente, stabilizzare il ginocchio perché non ceda da parte del terapista o utilizzando anche, ci sono dei tutori che vengono utilizzati in ambito ortopedico, ma possono venire utili anche in questo caso, che appunto bloccano il ginocchio in estensione oppure autorizzano solo un certo range di movimento impedendo quindi il cedimento totale del ginocchio quando facciamo questo tipo di training. Il passo successivo, dicevo, una volta che abbiamo riallenato questo primo passaggio, non è andare in avanti con il piede e appoggiarlo come un sacco di patate, quindi all'unisono tutta la pianta che tocca il pavimento, ma fare come in uno schema del passo normale in cui abbiamo prima il contatto del tallone e poi il contatto del resto del piede, quindi dell'avampiede. Quindi è importante, ora mi libero di questi sistemi così di protezione che potete utilizzare come delle parallele, però il discorso non cambia, quindi ci troviamo in questa posizione iniziale, trasferiamo il peso su un emilato, solleviamo il piede, andiamo ad appoggiarlo e appoggiamo per primo il tallone e poi il resto del piede e portiamo in avanti il peso. Questo lavoro è molto lento, molto progressivo, si dà tutto il tempo del mondo al paziente, però poi come nel passaggio dalla posizione seduta alla posizione retta bisogna cercare di dare un po' di dinamicità e rapidità al gesto perché è la fluidezza che poi permette il passaggio a uno schema del passo più naturale. Noi non pensiamo quando stiamo facendo questo schema del passo, è del tutto automatico e involontario e dobbiamo raggiungere lo stesso obiettivo col paziente, quindi partire da un apprendimento consapevole, diamo molte istruzioni, il paziente molto consapevolmente fa tutti i movimenti per poter eseguire il gesto il più correttamente possibile, però poi a un certo punto dobbiamo dare un po' più di rapidità, un po' più di fluidità al gesto e dobbiamo avere questo passaggio da cognitivo, cosciente, consapevole di tutto il gesto a automatismo, quindi che il paziente riesce a fare di nuovo questo gesto in automatico. Solo il passaggio all'automatismo ci permetterà poi di raggiungere una camminata normale. Se il paziente deve pensare a ciascun movimento non riusciremo mai a raggiungere veramente questo ritorno alla normalità, diciamo. Quindi questo per dire iniziare molto piano, consapevolmente, eccetera, però poi una volta che il paziente lo permette cercare di fare questo switch, questo passaggio a una maggior rapidità, velocità e automaticità nel gesto. Ok, poi, diciamo, i successivi passaggi sono semplicemente una ripetizione di quello che abbiamo fatto adesso, cioè nel momento in cui il paziente può fare un primo passo, ecco, possiamo allenare questa cosa, quindi la capacità di poter tenere il piede in avanti solo in appoggio sul tallone, lavorare poi e arrivare all'appoggio su tutto il piede che sta in avanti e solamente sulla punta del piede che sta dietro, quindi questo tipo di passaggi e poi una volta che viene raggiunto questo semplicemente si tratta di ripetere e ripetere dall'altro lato. Questo è quanto, cioè questi sono tutti i passaggi posturali che abbiamo visto dai posizioni più basiche, sdraiato, a letto, capace o non capace di poter flettere le gambe, quindi proprio il primissimo step nei passaggi posturali, nella capacità di indipendenza a letto, nella mobilizzazione a letto. Il passaggio da sdraiato a seduto e da seduto sul lettino, seduto sulla sedia e poi una volta seduto sulla sedia e passaggio a stazione retto e lì si apre tutto un altro capitolo che è quello appunto della rieducazione dello schema del passo e della ripresa di un cammino funzionale. Spero che questo video vi sia stato utile, ne faremo altri per vedere con due terapisti, uno in ruolo del paziente l'altro in ruolo del terapista, quali sono gli esercizi utili per poter recuperare ciascuno di questi gesti in cui appunto vedremo dove mettere le mani, come poter aiutare il paziente, quanta libertà lasciargli, come metodo in condizioni di sicurezza per fare tutti questi gesti e però credo che possa essere un buon punto di partenza per potersi chiedere ok in che step mi trovo, mi trovo nello step che non sono in grado di fare mobilizzazione a letto, allora sarà meglio ragionare e chiedere anche ai miei terapisti durante la terapia non tanto di riprendere a camminare quanto di riprendere una certa indipendenza, autonomia nei passaggi posturali a letto, oppure sono nella fase che sono in grado di muovermi a letto ma non riesco a raggiungere la posizione seduta e quindi lì dovrà essere il focus e così via, oppure ho recuperato tutti questi step, mi trovo alla capacità di poter stare in piedi ma non riesco a fare il passaggio alla camminata e quindi lì cercare come sempre la strategia è quella di diciamo avvicinarsi a piccoli step, cercare di mettere in condizioni di sicurezza, mettere in situazioni in cui il paziente anche emotivamente è confortevole e su quello lavorare appunto nel dare aiuto, grande aiuto, ausili, aiuto, assistenza fisica a parte di un terapista e poi mano a mano togliere questi ausili in modo che il paziente riacquisti la sua autonomia, la sua automaticità. Spero che questo video vi è stato utile, alla prossima! Grazie a tutti!